Un gattino, eh? Io clicco fuori della porta. La tua negligenza sarà segnalata alla direzione di DoorDash. Alexi, sono io. Apri. Jelena? Aspetta! Jelena! Ciao, papà. Scusa l'attesa, ero in una cola importante, altamente riservata. Tanto lavoro, tanto lavoro. Molta carne al fuoco. Sei soddisfatta? Oh, sì. Sì, molto sfatto. Molto disfatto. Come mai me lo chiedi? Che cosa ti porta qui? C'è qualcosa che non va in me. Ho un vuoto. Sto andando alla deriva. E non ho un obiettivo. Ho pensato che buttarmi sul lavoro fosse la risposta. No! 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 Oh, no! Chi sei tu? Ah, io sono Bob. Che ti ha mandato, Bob? Nessuno. Voi siete stati tutti mandati? Tutti hanno fatto cose orribili. Operazioni ombra. Rapine a laboratori governativi. Killer professionisti. Sì, quindi? Quindi qualcuno ci vuole morti. Che cazzo. Siamo cresciuti con questo credo. Esistono bravi ragazzi. E quelli cattivi. Qual è il piano? Potrebbe essere un casino. Ma in realtà poi realizziamo che ci sono i cattivi. E ci sono i più cattivi. E nient'altro. Guardatevi. Adorabili. E' quello? E' a prova di proiettile. E te' a prova di proiettile? E' a prova di proiettile? E' a prova di proiettile più o meno! Quello è Bucky? Brutta notizia.